Ed ora un nostro reportage sulla strada provinciale che da cardinale porta a Simbario. Una strada che negli anni settanta era un punto di riferimento per chi si doveva recare dallo Ionio alle Sere Vibonesi. Ora tutto è abbandonato, anche se la provincia di Catanzaro ci ha messo un po' di sicurezza con il taglio delle erbacce. Ma come al solito non sono state ripulite le canalette che fanno defluire le acque piovane e le segnalazioni non mancano da parte dei proprietari che risiedono. O sono in possesso di vari terreni agricoli, alla nostra emittente per la sporcizia che si trovano davanti ai cancelli delle proprie casette. Senza dimenticare anche la sicurezza per i guardarail che sono fatiscenti o addirittura non esistono. Queste sono le nostre immagini. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.